Nove grane per i 14 ex dipendenti della società Feluca assunti lo scorso 2 gennaio all'interno di Amam e ATM in virtù di alcune interpretazioni del segretario generale Antonio Ledonne sul comma 564 dell'articolo 1 della legge 147 del 2013 sulla mobilità tra gli enti locali. Dopo il monito della Corte dei Conti sul passaggio degli ex Feluca ad Amam messo nero su bianco all'interno della relazione sul consuntivo 2013 e dopo mesi di ammonimenti inviati dall'ispettorato del lavoro a Palazzo Zanca l'ufficio territoriale guidato da Gaetano Sciacca ha già effettuato una richiesta di acquisizione atti sia al comune che all'Amam per fare luce sulle modalità con cui il comune ha assunto gli ex dipendenti di Feluca partecipata che per la maggioranza delle quote apparteneva a privati. Secondo le donne invece l'assunzione degli ex Feluca all'Amam e all'ATM non configurava alcuna commistione tra pubblico e privato con l'amministrazione che aveva giustificato la necessità del loro ruolamento per dare un impulso al recupero crediti delle partecipate attività che sino ad oggi però gli ex Feluca non hanno mai svolto. In tutto alle casse dell'Amam i 14 dipendenti di Feluca costano mezzo milione di euro 8 sono assunti full time e 6 part time. La direzione territoriale del lavoro guidata da Gaetano Sciacca ha invece riconosciuto il lavoratoriato come gli unici aventi diritto al passaggio all'Amam e a più round aveva sollevato grossi dubbi sull'arruolamento di personale appartenente ad altri bacini intimando che le assunzioni fossero effettuate attraverso selezioni pubbliche. In sostanza secondo la direzione territoriale del lavoro gli ex Feluca non avevano alcun diritto di essere stabilizzati ed il comune ha creato una corsia preferenziale a discapito della possibilità di bandire selezioni pubbliche. Un problema simile l'ispettorato del lavoro lo aveva sollevato anche per gli ex Agrinova aurulati nei servizi ambientali con un contratto a tempo determinato grazie a una clausola di salvaguardia per gli ex LSU. Secondo l'ispettorato invece gli ex Agrinova sarebbero addirittura usciti anche dal bacino non risultanto iscritti negli elenchi inviati da Palermo al centro per l'impiego di Messina.